esatto sbarazzino e anche troppo come prima parlavo in casa facciamo due chiacchiere normale ma mi fa come stai ti vedo ti vedo triste come sto che domande adesso rido un sacco rido certo perché la mentalità da club non è che uno va al club qualche volta e sta lì perché è bello club si gioca a golf onesto si onesto qualche risata tra tutti giusto tipo giocando a club cioè giocando a club poi alla fine diventa quasi un'abitudine sembra quasi di giocare a club non fa neanche cagare anche perché chi lo sa qual è l'aspetto del golf qual è l'aspetto del club che bello la mentalità appunto perché si si ricchi si diventa ricchi si diventa ricchi quindi anche altre volte soliti discorsi ma perché stai ma perché non ti trovi una ragazza magari mi chiedono ma perché sono ricco così con me stesso poi adesso mi verrebbe anche da canticchiare un po' mi verrebbe da buttarla lì tipo quella famosa hit di adesso della di una marca rinomata di soda di una famosa marca rinomata di soda dimmi qualche segreto per dire oppure la riscoperta di artisti italiani di cantatori italiani di un certo spessore tra l'altro e com'è che diceva già eccola non mi sto denunciando mi sto prendendo il mio tempo cioè neanche il mio tempo capite perché anche questo evitare anche cioè senza forzature senza questo è il club tra l'altro come il golf come il golf con calma l'aria aperta potrebbe essere chiusa anche se in una stanza va bene che poi ricircola ma no quella eh però non è mica in un barattolo cioè anche in un barattolo è sempre aperta l'aria ah burlone anche questo ne fa parte però tornando a prima quando sei qui con me questo ma come sei sempre fatto com'è che com'è che si faceva un apribottiglio via il già prima ne importava né altro però c'è poi anche al giorno d'oggi e si andava delle prostitute delle prostitute nei bordelli qui apri bottiglie un po' di filo un po' di lenza oggi di plastica perchè potrebbero fare anche più colla occhi per loro poi tipo anche dello spago magari altro spago si andava lì tipo oggi quando sei al tempo con le altre canzoni dimmi un segreto non so i tempi perchè poi magari chiedono possono anche chiedere ma fermarmi come potrei ma poi ho studiato la discografia dell'autore cioè anche ascoltando cioè ah si ascoltando cosa dice che parole dice questa stanza non ha più pareti ma alberi un ingrandimento i macro di un letto con delle muffe liberarsi da se stessi la macro con gli ingrandimenti sembrerebbero tutti alberi i paesaggi cioè com'è che cioè perchè e poi ti metti là e ti lascia andare così almeno il peso e poi aspetti un attimo ti prendi il tuo tempo poi prendendoti il tuo tempo con calma magari anche con un po' di uovo che così una ragazza una cena riesce a farti anche riesce a farti anche i pigmenti in qualche maniera perchè poi i colori vengono da niente quindi è quello il club la mentalità la mentalità essere è quello non non avere neanche perchè anche lì dai paesaggisti dell'ottocento ma anche prima i colori non erano mica così facili da trovare pensiamo a quei viola a quei blu blu mica era scontato tanto quanto l'arancione e gli arancioni accesi cioè quindi cioè già prima non ne importava nessuno e intanto perchè lo stai facendo perchè sono felice con me stesso mi fa stare bene mi che dire perchè lo faccio appunto tanto vale tanto vale che domande che vale qual è il valore della vita qual è il valore a questo punto a priori cioè a priori perchè poi cosa vuol dire a priori qual è il valore cioè qual è il valore il valore è questo è questo qua insomma oltre a stare bene con se stessi anche perchè gli uomini gli uomini se sono eccitati possono intercedere accolto rettale accolto rettale magari con una donna rimane incinta anche contando altri tempi cioè poi magari chiamate 24 però anche nel passato com'è che com'è che è successo che oggi siamo così tanti quindi anche lì due amici magari una tipa però anche un'amica due amici un'amica che ti fa da spalla che sta là sorreggerti magari tu sorreggi lei oppure un avvicenne insomma a seconda di quello che è la situazione che si propone perchè insomma è un po' così che funziona l'amici si si ma poi il tutto senza neanche voler capite si perchè sono andato al club anch'io voglio andare al club non è già esserci al club anch'io voglio fare perchè se poi sono anch'io la ma racconti i fatti chi sei è quello saper anche essere non è il club di per sé evitare anche di agognare perchè altrimenti non si sarebbe liberi di fare festa cioè di vivere la club non essere ricchi perchè il club vuol dire anche lì rilassarsi sennò come fai a giocare a golf in mille modi in mille modi infatti se se mi ricordo bene tiger woods ha avuto pure un paio di problemi e questo e tutti del tutto evitabili onesto non è no 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 no